Mi apre il brano e canta anche in mezzo, per cui già comunque ho dovuto tagliare dei qualsettini più la parte del rapper e invece per questa volta che dura tre minuti abbiamo dovuto aggiungere 30 secondi ma quei 30 secondi che dovevano essere dedicati al rap e anche al rap in realtà quando ho saputo di questa cosa della censura, io ho detto ma non c'è censura forse è stato per me io l'avrei cantata tutta il regolamento purtroppo voleva che per tutti insomma che bisogna cantare alle tre minuti e così è stato sicuramente sono le frasi più incalzanti del brano e mi dispiace non le cantare